Francesca Cipriani in ospedale. Ospite di Barbara D'Urso a pomeriggio 5, Francesca Cipriani ha raccontato un fattaccio accaduto domenica 14 aprile 2018. Nel salotto di Barbara D'Urso l'ex pupa ha raccontato di essere stata trasportata da un'ambulanza all'ospedale Niguarda di Milano. Un racconto tremendo condito dalla paura di Francesca Cipriani. La showgiri non riusciva a respirare, e i medici, hanno subito pensato al peggio, e hanno ipotizzato un'embolia polmonare. Per fortuna, però, non era così. Dopo avere eseguito tutti i controlli del caso, si è scoperto si trattava semplicemente di un virus intestinale. Domenica sono stata male, ha detto la Cipriani sono stata portata all'ospedale Niguarda di Milano con l'ambulanza. Ho preso un virus intestinale. Saluto tutti i dottori della struttura, che sono stati molto bravi. Mi hanno fatto, anche un attacco o un contrasto, perché pensavano ad un'embolia polmonare dal momento che non respiravo. Sono viva e vegeta, grazie a tutti i dottori, ha detto Felice Francesca che, lì per lì, si è spaventata molto. Per fortuna, tutto è bene quel che finisce bene. Qualche giorno fa Francesca Cipriani ha lanciato un appello dalle pagine del settimanale SPI. Ha chiesto di poter entrare nella casa del grande fratello Vipi. La Cipriani ha perso la testa per Walter Nudo, e vorrebbe entrare nella casa per vederlo, e anche per farglielo sapere. Seguo il GFV anche la notte, ha confessato Francesca Cipriani, perché c'è un concorrente che mi fa dimenticare di dormire. La sua bellezza è palese, però oltre all'aspetto esteriore c'è molto di più. È un uomo con la U maiuscola, è profondo. Mi piace la sua pacatezza, la sua allegria, la solarità. Voglio assolutamente conoscerlo. Il suo nome è Walter Nudo, punto sarebbe pazza di lui al punto di essere pronta a incontrarlo. Vorrei che mi chiamassero in studio per parlargli. Vorrei scoprire la sua anima perché nella casa, sta dimostrando di essere non solo un bell'uomo, ma molto di più. E io penso che sarei la donna adatta per lui. Il ruolo di bionda svampita fa parte di me, però io sono ben altro. . . . .